Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Sono riprese le registrazioni sul set di Un Posto al Sole ma Nina Soldano non è presente Scoppia il panico per l'attrice.Nelle ultime ore c'è molta preoccupazione da parte del pubblico affezionato alla Soap Napoletano Un Posto al Sole perché Nina Soldano non è presente sul set Che cosa sta succedendo all'attrice? Dopo la pausa estiva di vacanza per gli attori di Un Posto al Sole, sono riprese le registrazioni delle nuove puntate e intanto stanno andando già in onda quelle già registrate Gli attori della Soap Napoletane infatti si sono ripresi sul set e hanno pubblicato tramite i social network alcuni scatti e video che li ritraggono già impegnati nella recitazione Sono tutti presenti tranne Nina Soldano e questo dettaglio non è sfuggito ai fan Che cosa sta succedendo? Nina Soldano, nuovo stop per l'attrice di Upas? Nina Soldano in Salento. Nina Soldano in Salento diretta news.com 02-09-22, Instagram screenshot È scattato l'allarme nel pubblico che è abituato alle pause degli attori Perché Nina non era sul set con i colleghi? Dalle prime immagini che si possono vedere sui social network non è presente nemmeno a Riccardo Polizzi Carbonelli, che interpreta Roberto Ferri Spulciando poi nei profili social dell'attrice Nina Soldano, si trova ancora in vacanza in Salento perciò non è ancora rientrata sul set In questo momento però la trama che vede insieme Nina e Riccardo, li vede ancora insieme e innamorati Il pubblico perciò ha ipotizzato che i due attori possano prolungare di qualche giorno le loro vacanze, ma rientreranno a breve sul set L'allarme è scattato perché già in passato Nina Soldano era stata allontanata dal set per lunghi mesi e solo dopo una mobilitazione totale dei fan, l'attrice ha ripreso il suo posto nella sopi In molti temono che possa accadere di nuovo, proprio ora che nella trama Marina e Roberto si sono rimessi insieme Si attende così con ansia il ritorno a Napoli di Nina per tranquillizzare tutti i fan La trama in questo momento è talmente avvincente che Marina non può lasciare I fan la seguono con affetto e sperano di rivederla presto sul set della soap di Rai 3 Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo Ciao e ci vediamo Ciao